Ieri pomeriggio incontrata Selvaggio a Ragusa, è iniziato il primo step per la squadra di calcio S di Città di Ragusa, che per il momento è iscritta nel torneo di promozione, in attesa di conoscere le decisioni del comitato regionale, circa distanza presentata per il ripescaggio nel campionato d'eccellenza. Il mister Filippo Racita ha così convocato portieri, Di Martino, All'Abiso, Difensori, Lauria, Darrigo, Gennaro, Bacli, Brullo, Criscione, Bennici, Centrocampisti, Caruso, Palacino, Spina, Ambrogio, Gurrieri, Silla, Attaccanti, Grazioso, Bruno, Lamin, Conte, Aristide. Dopo le visite mediche effettuate inizio settimana, l'avventura per la squadra di calcio ragusana è iniziata ufficialmente, seguendo le direttive del tecnico, prima della tradizionale pausa feragostana. Presto si disputeranno anche degli amichevoli. Inoltre, il DS sta trattando per un centrocampista una punta, lo scopo di infultire l'organico, in vista degli impegni da sostenere in occasione della prossima stagione. L'inizio del ritiro precampionato, afferma il DS Pluchino, è avvenuto secondo programma e adesso occorre proseguire secondo una rigorosa scaletta, con la consapevolezza che l'intera squadra ha bisogno di essere amalgamata al meglio. Ma su questo aspetto, l'allenatore e lo staff tecnico hanno già mostrato di possedere delle idee chiare, soprattutto su come bisogna agire. Il principale obiettivo, che era quello di far rimanere in selle il calcio ragusa, l'abbiamo raggiunto. Grazie a tutti.